Ciao a tutti amici e amiche, bentornati nel mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Allora, sono stata a portare le bimbe a scuola, sono appena rientrata. Disastro. Il disastro più assoluto. Ho pensato di portarvi con me in questa mattinata di sistemazioni prevalentemente della camera matrimoniale. Devo dare una bella riordinata, adesso vi faccio vedere che cosa c'è, il disastro che c'è nella stanza. E mi metterò subito all'opera, mi cambio, mi metto comoda, una maglietta pratica, legherò i capelli, insomma, mi vedrete in un'altra veste perché assolutamente c'è necessità di riordino. Si sta per scoperchiare il vaso di Pandora, apriamo la porta e... Oh, mamma mia, aiuto. Che macello ragazzi. Mi chiedo come sia possibile che dalla sera alla mattina si crei tutto questo disordine. Ok, la mattina si va sempre un po' di fretta, si va sempre un po' di corsa, ci sono mille cose da fare, prepara questo, prepara quello, ti cambia il volo, eccetera. Di solito cerco sempre di organizzarmi la sera, però a quanto pare comunque c'è qualcosa che non va nella mia organizzazione perché si creano questi disastri. Quindi adesso ne vedrete delle belle. Per prima cosa vado subito a riordinare il letto sistemando le lenzuola, i cuscini e tutto quanto. Il letto sistemando le lenzuola, i cuscini e tutto quanto. Musica Già quando il letto è fatto sembra che la stanza sia più in ordine ora mi dedicherò allo spolvero dei mobili Musica 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Diventa un problema, diventa un vero problema. Quindi devi sempre riservarti quel lasso di tempo che ti serve per dare un riordino. Poi avevo una casa piccola e dicevo, vabbè, la casa si incasina perché è piccola. Adesso la casa è enorme, cioè sono più di 130 metri quadri e dicevo, pensavo, vabbè, chiuderò delle stanze che non mi occorrono, quindi bene o male la casa si terrà più in ordine. E invece no. Il lavoro si è duplicato perché ovviamente più gli spazi sono grandi e più metti roba. Cioè, io non lo so come si faccia, veramente è un casino. Allora, a me piace essere ordinata, sistemata e tutto, però ci sono le volte che proprio non si ha tempo di poter star dietro a tutte le cose. Ma come dicevo prima, almeno quella mezz'oretta, tre quarti d'ora durante il giorno devi riservarla a riordinare perché altrimenti è un casino, non si capisce niente. Come si deve fare? Non lo so, è uno stress. No, vabbè, però poi c'è da dire che mi piace anche, ecco, mettermi lì, fare mente locale su dove devo rimettere a posto le cose. Cioè, quindi comunque poi quel senso di ordine mi dà sollecitudine, cioè mi piace, mi dà piacere. Ma quando vedo il disastro me ne vado in paranoia, cioè vado in crisi, aiuto, come devo fare? E' sempre così, ma penso pure per voi. Fatemelo sapere giù tra i commenti, sono curiosa di conoscere il vostro punto di vista. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oh, ecco qui, finalmente la camera è tutta sistemata, riordinata, pulita e soprattutto profumata. Super contenta. Iscriviti subito, attivando sempre, 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 sempre la campanella e non dimenticatevi di seguirmi anche sugli altri social come Instagram, mi trovate con asiap8646 oppure su TikTok, axiu87. Vi mando un bacione e ci vediamo presto al prossimo video. Ciao, ciao. 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 Grazie a tutti.